Il leone si è addormentato e non si sveglierà Nella giungla, la grande giungla, adesso dormirà Ragazzi, ma cosa diavolo state cantando? Oh no, niente Il leone, il leone Oh, ho capito Basta Piuttosto, Axel, devo dirti una cosa Eh, non ti preoccupare, te lo do l'autografo Non è quello che voglio Ricordi quel piccolo incidente alla biblioteca comunale? Ehm, no Quella che è andata a fuoco Ehm, no Quando c'era l'Exeus dentro Oh, sì, quella Ma non preoccupatevi Per far fronte ai nostri problemi economici Vi ho iscritti tutti a un programma radiofonico Ma come? Senza consultarci Beh, sì Oh, su via ragazzi Ci divertiremo Ok, vi spiego come funziona Ognuno di noi dovrà portare qualcosa Con cui esibirsi alla radio E far divertire la gente E farla ballare E farla divertire E farla ballare ancora E quindi si ballerà? Si ballerà fino a una morte? Ehm, sì Evviva! Ehm, io mi astengo Ehi, posso venire anch'io? No Divertitevi Ehi, Ehi, Siegbert Partecipiamo insieme? Ehm, e va bene Cantiamo la canzone del leone? No Oh Dato che dobbiamo partecipare Parteciperò anch'io Sa, Ex, mi fai paura Quando fai così Ok, cominciate Ma perché dobbiamo vestirci In questo cazzo di moto Solo perché ce la dice Axel? Io mi sento anche tanto in imbaraccio Eh, sì Però Cazzo Dio Lo sapevo Sono orribile, vero? Allora, com'è andata? Preferisco non parlarne Oh, tocca a me Beh, facciamo in fretta Dato che mi è stato imposto Di partecipare a questo Cavolo di programma Intendo stupirvi con una notizia Dell'ultimo minuto Aprite bene le orecchie Io Non sono Emo Salve, sono Oxalin Venite al nuovo ristorante Da zio Oxalin Che sono io Guardate Questo cliente così soddisfatto Venite Contento Venite Da zio Oxalin Dolori di stomaco Asticolati Ma Ma che cazzo ha scritto questo copione? Salve ragazze Purtroppo A vostro dispiacere Per non sentire più la mia voce Il programma radiofonico è finito Quindi Lascio la parola ai produttori Salve Siamo Saga E Valix Bene Questo era il nostro Primo video insieme Abbiamo doppiato insieme Ci siamo incontrati E abbiamo doppiato insieme Ecco Purtroppo Per voi E per noi Insomma Purtroppo il video è finito Ci sarà una seconda puntata Ovviamente Quando avremo tempo e voglia Con Axel Il porco spino E Luxord Il maniaco del gioco E anche sì Marruxia Il gay Ecco Insomma Avete capito Quando avremo tempo e voglia Ci sarà una nuova cosa E Per cosa intendo puntata Insomma A presto Ciao Per cosa intendo puntata 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 Per cosa intendo puntata